Francesco Galdi Francesco Galdi Francesco Galdi Francesco Galdi Francesco Galdi Francesco Galdi Mixer Planet incontra Francesco Galdi, il vincitore della finale di World Class. Val la pena partecipare alle gare perché fondamentalmente le gare sono con te stesso. È fondamentale partecipare, rimettersi in gioco, studiare, applicarsi, imparare da tutto e da tutti e rimettersi sempre di nuovo nella mischia. Non c'è mai, mai, mai un'età giusta per smettere. Questa era la mia ultima gara, mia moglie lo sa. Era la mia ultima gara e mi sono portata a casa, non so, il sogno di una vita da bartender. Secondo me ho vinto con l'ultimo cocktail perché ho espresso al 100% l'ospitalità italiana. L'ultimo cocktail è il Banana Revolution, basato sulla idea delle banane El Muro di Berlino. I ingredienti e la tecnica di preparazione? Molto semplice, bulletin, due once, una parte di palo cortato con uno scelio abbastanza raro, sous vide con banana per 4 ore a 40 gradi e un bitter preparato da me con smoke and pineapple e poi una piccola sugar crack con cioccolato fondente e zucchero. Grazie mille, grazie di tutto. Grazie.